Con la sua diciottesima edizione torna Festa Ambiente Sud, il Festival Nazionale di Lega Ambiente per il Sud Italia, che si svolgerà dal 15 luglio al 4 agosto sul Gergano e ruoterà sul tema pace e rinnovabili, con l'obiettivo di esplorare il nesso tra la pace e la necessità di superare in campo energetico l'era delle fonti fossili. Il festival si svolgerà in set-up e toccherà i luoghi simbolo del Parco Nazionale del Gergano, Rignano Garganico, San Marco Illamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Foresta Umbra. Sì, quando è scoppiata la guerra ci siamo chiesti perché tutte queste guerre negli ultimi decenni e ci siamo dati una risposta. Gran parte di queste guerre sono per l'accaparamento di risorse naturali non rinnovabili e quindi sono guerre per il petrolio e per il gas. E allora forse è il caso di accelerare la transizione ecologica e quindi di arrivare a una rivoluzione delle politiche energetiche. Questo è un po' il tema del nostro festival. Toccheremo tanti siti interessanti dal punto di vista culturale e in ogni sito ci saranno tanti eventi. Aggiungo solo una cosa, faremo una tappa molto bella all'abbazia di Pulsano in cui sperimenteremo una visita guidata di tipo teatrale in cui gli eremiti parleranno e parleranno della loro esperienza di eremitaggio in quei luoghi.